A questo poeta l'ho conosciuto bene, era un erudito, Giacentro Campirasi, una personalità della Bergamo dagli anni 20 fino alla fine degli anni 60. Era figlio dell'oste di Seriate, era una grande osteria quella di papà Campirasi vicino alla chiesa parrocchiale, all'arciprentale, ora non c'è più questa osteria e Giacinto da ragazzo da giovane dava una mano al papà quando poteva nell'osteria e detta la ricetta della Beseca, la Beseca del Cinto Steno, simpaticissima, una poesia giovanile, molto agile e simpatica. Dice, tutti i festi alla mattina dopo messa a Paspassine, vuoi mangiare la Besecchina con duper di Besseline, i Besselli che sono delle forme di pane, e una slitta di quel burro vuoi del cinto sul cantù. Questo che del cinto steno per Beseca aveva il sito, lui conosce, o siamo steno, è la raspa ben pulita, la Beseca del primo lavoro la desmenta come un fiore, con la trina fina fina, tanto che mettono sulla lard, peter e sigolina, e a bella se la fattano con carottone e patate, sale, rai, faseu, popate. Qualcandà è del luce boscada, piere e specie uspissighi, dopo di la belle salata, tant formale che mette, fin, ecco quel che ha tempo e dov'è, all'opera o cinto steno. Non troppo cozza, non troppo dura, ma piuttosto la sale in tre, se ne è curta di cottura, la Beseca faccia bene, stante miga di, le mei, le polastre e le osèi. Se ne è piatta senza prentesa, la Beseca ognuno sa, non è mia però la spesa che da questo intermangia, come al monte, le miei polastre, che da l'occhio e cervello. Grazie.